Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi vediamo la sfida dei calci di rigore per vedere come batterli su FIFA 18 Quindi siamo sulla sfida effettiva del gioco completo e vediamo come bisogna impostare il giocatore Molto simile a FIFA 17, qualche piccola modifica niente di trascendentale Prima di tutto dobbiamo decidere la posizione a seconda della corso del giocatore e anche la distanza dalla palla Prendere la mira e caricare il tiro con B mentre il giocatore sta correndo E poi infine finalizzare tenendo comunque premuto l'analogico sinistro sia su PlayStation che Xbox Mentre il giocatore sta tirando Possiamo modificare la velocità con L2 o R2 a seconda di come si voglia Proviamo quindi a centrare gli angolini Abbiamo il riferimento Posso spostare il giocatore volendo da una parte o dall'altra Però la posizione iniziale già inserita andava bene Quindi vado a caricare Però ho caricato troppo poco quindi ovviamente la palla non si è alzata Dobbiamo vedere che tenendo premuto poi ad un certo punto la traiettoria si alza Però se vado a smorzare l'analogico mentre sto tirando Alla fine il mio tiro schizza via Quindi devo tenere diciamo premuto verso il lato verso cui sto mirando Oppure lasciare completamente E in questo modo come vediamo riesco a centrare il bersaglio In questo caso poi devo andare Devo cercare di prendere la Tiare la soterra Volevo prendere la borraccia Devo comunque stare attento e prendere la mano su quanto tempo devo tenere caricato il tiro E come devo tenere premuto l'analogico prima di tirare Questo dovrebbe essere tirato abbastanza bene L'angolazione possiamo gestirla poi ovviamente mentre stiamo tirando E una volta presa la mano riusciamo anche a tirare come vediamo direttamente con Riproviamo l'esercizio e lo rivediamo Giusto per avere qualche riferimento in più Comunque posso prendere la mano e sapere quanto devo tenere premuto il terminato pulsante Per riuscire a tirare bene o in questo caso colpire il bersaglio O tirare nelle diciamo zone sensibili Il punteggio poi ovviamente viene deciso in base anche alla Ho tirato troppo piano in questo caso Cioè lo so Però giusto giusto ci riesco a passare Il punteggio viene deciso in base a quanto è angolato il tiro e quanto è imparabile Quindi in questo caso siamo riusciti molto meglio Se avete delle domande su questo tutorial vi invito a scriverle nei commenti Se volete più informazioni domande sui rigori scrivetelo comunque nei commenti Lasciate un like e non perdetevi gli altri tutorial sul cross E se riesco anche qualche altra cosina Suggerimenti per giocare a FIFA 18 che uscirà in settimana Sua prossima